Ci troviamo a Faenza e qui nasce il primo centro per la cultura ceramica italiana, un trade union tra il mondo dell'industria e il mondo dei musei, capace di catalogare e mappare tutte le realtà ceramiche di produzione e di musei italiane. Di cosa si tratta questo nuovo progetto? Il progetto è quello di creare un portale della ceramica che in qualche modo raccolga tutti gli artefici, cioè l'industria, gli artigiani, gli artisti, i musei, le scuole, i centri di ricerca per dare una fotografia di quello che è il mondo ceramico a livello economico, culturale e nello stesso tempo permettere la fruizione di questi dati a chiunque poi acceda al portale e che si è interessato magari a capire qual è l'estensione di questo settore. Questo portale poi dovrà essere pubblicizzato e l'attività generale del settore ceramico dovranno essere pubblicizzati attraverso un atlante che verrà confezionato dal museo e il portale stesso è attraverso la manifestazione di Argillà che si svolge a Faenza ogni due anni.